Fiscia Se No! Patite di meravigliare le tue e le persone con i ragazzi a dare vita a questa prima battaglia finale Siamo alla tutti i miei mezzi di mezzo guardo e eccoli qua la posizione 7 e 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 6 7 ora voi vai 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Siamo al passaggio del 15 cento metri... 15 metri ed ecco il tempo... 25 cento uno... 10... 5... 25 cento uno... 5... 5... 6... 6... 5...